Occorre aumentare a Salerno in Campania la disponibilità del numero di posti disponibili nelle strutture per anziani adeguandole a criteri di vivibilità degni di un paese civile. E' l'appello che parte da Franco Tavella, segretario del sindacato regionale dei pensionati CGL, il giorno dopo l'indagine della procura di Salerno che ha messo in luce la drammatica situazione di abbandono e di maltrattamenti nella struttura residenziale Istituto Europeo della Terza Età a Cappelle. La cronaca, purtroppo ha ricordato Tavella, non è nuova a casi simili e spesso soltanto la capacità investigativa delle procure e la denuncia dei familiari hanno fatto emergere le drammatiche condizioni. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il commento di Antonio Capezzuto, segretario generale della CGL Funzione Pubblica. Sono notizie che atterriscono e che ovviamente richiamano la necessità di avere massima attenzione. Gli anziani che si rivolgono a quelle strutture hanno bisogno di cure ma soprattutto hanno bisogno di umanità. E' chiaro che farò bene gli inquirenti ad intervenire in situazioni così particolari, è chiaro che però bisogna anche restituire tranquillità ovviamente a chi si rivolge a queste strutture perché la maggior parte dei lavoratori, la stragrande maggioranza dei lavoratori che interviene in queste strutture offrono prima di tutto umanità e non solo assistenza. E' chiaro che noi chiediamo alle autorità come tendi di continuare in queste verifiche affinché questo non accada. Veramente atterrisce immaginare che un proprio familiare possa essere assistito all'interno di una struttura in determinate condizioni e soprattutto in condizioni appunto di maltrattamento e violenza.